Ciao a tutti, di nuovo Massimiliano Falcone, qui con Connect for Climate all'interno di All for the Green, la settimana dell'ambiente nella città di Bologna, nella città di Bologna alle porte del G7 dell'ambiente, che si svolgerà qui tra ormai due giorni, domenica e lunedì. E siamo qui con Elisabetta, Elisabetta Tedeschi, del Consorzio Nazionale Apicoltori. L'apicoltura ha a che fare, è il settore agroalimentare ed è uno dei settori, non nel caso dell'apicoltura, ma come settore che oggi sappiamo essere tra i più impattanti a livello del cambiamento climatico. Ma l'apicoltura di per sé è un qualcosa che va in controtendenza, che ci aiuta, che ci supporta in una direzione che è completamente in linea con i nostri obiettivi, è opposta al problema e quindi in controtendenza. E questa controtendenza, anche un ritornare a delle tradizioni con l'innovazione, perché oggi non è più l'apicoltura di qualche secolo fa, è qui rappresentata da un consorzio che comunque ha qualche anno alle sue spalle, perché esiste dal 1979. Allora, Elisabetta, ti chiediamo un pochino una descrizione di che cosa fa il consorzio, per poi collegarci da questo, passare da questo al tema un po' più caldo questi giorni, che è quello dell'impatto sull'ambiente e dell'attività antropica. Conapi è un consorzio che nasce come cooperativa nel 1979 e mi piace sostolineare che nasce da un gruppo di giovani che non avendo nessuna tradizione in ambito agricolo, anzi proveniendo da formazioni completamente diverse, si appassionano e decidono di dedicarsi all'apicoltura. E questo ha fatto sì che si creasse una rete, ragazzi giovani quindi con una formazione scolastica, diversa da quella legata all'agricoltura, hanno dato un'impronta molto diversa a questo consorzio, unendo saperi che normalmente in agricoltura noi sappiamo essere custoditi gelosamente. Quindi si è creata una rete, è diventata consorzio nazionale, al giorno d'oggi noi abbiamo 240 soci nominali, ma ci sono cooperative, ci sono associazioni, quindi abbiamo oltre 600 soci che dal Piemonte alla Sicilia allevano api, vivono con le api e producono miele. È una cooperativa, mi piace dire, una cooperativa vera, molto partecipata. Il Consiglio di Amministrazione è formato da apicoltori e quindi le problematiche delle api, connesse alla loro sopravvivenza, all'ambiente, a un'apicoltura pulita, a un'apicoltura sana, che tenga in grande considerazione la sopravvivenza e la salute delle api, è una pratica molto sentita nel nostro consorzio. Tant'è che la nostra è stata una delle prime cooperative a praticare apicoltura biologica e quasi la metà dei nostri soci sono apicoltori biologici. Quindi una grande stretta connessione con l'ambiente. Le problematiche di impatto ambientale, immagino, mi sembra di ricordare, che si sentono subito su animali, insetti così sensibili quali le api. Quindi la sopravvivenza, anzi il rifiorire e il riprodursi delle api, è segno di una salute alta, di un ambiente, di un ecosistema. Il contrario è un allarme. Quindi l'apicoltura è una tradizione che in qualche modo costituisce anche un allarme, un alert su quello che sta accadendo. Ci dici un pochino come questo può essere sia un segnale, ed è un segnale che ci dice che quello che sta cambiando è quello che sta avvenendo, e sia come lavorare per prevenire quello che sta accadendo, per far sì che una tradizione così forte e così sentita da giovani allora o giovani oggi che lasciano e abbandonano altri sentieri, altre discipline, altre materie per tornare alla terra, in senso lato, amare questi animali per vivere di loro. L'app giustamente è sempre stata considerata un bioindicatore, perché è particolarmente sensibile alle sollecitazioni sia ambientali, sia legate alla presenza di sostanze chimiche nell'ambiente. L'ape quindi risente moltissimo di quelle che sono state entrambe le due questioni fondamentali di questi anni, di questi tempi, le variazioni climatiche, quindi questi improvvisi cambiamenti con piogge improvvise, siccità, stanno condizionando in maniera molto pesante quello che è il raccolto, quindi il miele e quindi la sopravvivenza delle api, e in seconda battuta, diciamo anche l'economia legata alla produzione del miele. Poi c'è un altro tema dirompente che è l'uso indiscriminato che si sta facendo ormai da troppi anni di pesticidi, di sostanze chimiche in agricoltura. Hai accennato al fatto che l'agricoltura ormai è riconosciuto come l'elemento inquinante più importante forse in questo momento per la diffusione e per la gravità del sistema che può innescare. Le api risentono immediatamente. Nel 2009, tutti ci ricordiamo, c'è stato questo grandissimo allarme perché l'inserimento di sostanze nuove, i neonicotinoidi, hanno determinato in Italia, ma nel mondo, la mortalità del 50% del patrimonio apistico italiano. Da lì è nata una grande battaglia, ecco perché gli apicultori appartengono al mondo dell'agricoltura, ma rappresentano coloro che prima di altri possono segnalare il disagio di questo ambiente. Da qui è nata una battaglia proprio dagli apicultori con api in prima fila e si è giunti alla sospensione dei neonicotinoidi che di anno in anno è stata rinnovata e speriamo di riuscire a eliminare questi come altri antiparassitari, sostanze chimiche che vengono usate spesso indiscriminatamente e inutilmente. Per cui non si vuole tornare a un'agricoltura, diciamo, ancestrale, antica che può creare problemi, ma non si può neanche pensare di continuare a praticare un'agricoltura che implica l'uso di veleni e che ci restituisce inevitabilmente veleno, perché ciò che noi metteremo nella terra sarà poi ciò che noi andremo a mangiare. Le api proprio come insetti, pensate che fanno da filtro, è molto difficile trovare contaminazioni sul miele, perché le prime a essere contaminate sono le api, sono le api che muoiono, per cui sono proprio le api stesse che ci indicano la salubrità di un ambiente. Prima delle api muoiono tutti quegli impollinatori che non muovono economie, le farfalle, le lucciole, i bombi. Prima delle api. Perché di loro non si occupa nessuno. Quando muoiono le api che sono curate dagli apicultori vuol dire che in quel territorio c'è stata già un'ampia strage di altri insetti. Inizia passeggiando in un campo, non vedo più una farfalla, mi dispiace, ma forse non me ne accorgo più di tanto e posso additare altro problema o pensare che sia solo una questione di migrazione o di assenza in quell'area. Invece, laddove esiste la vostra attività, c'è un indicatore ben forte, ben presente e grazie al vostro lavoro ci siamo accorti di epidemie o di pesticidi che creavano dei problemi. Quindi ci sono due indicatori importanti. Uno, il biologico vero e quindi come non utilizzare pesticidi e come tornare indietro anche per la nostra stessa salute, per quello che ingeriamo, per quello che siamo noi stessi tramite l'alimentazione e dall'altro punto di vista, che è quello che è il tema di questi giorni, non perché l'altro non lo sia, ma perché ora stiamo parlando di cambiamento climatico, le variazioni climatiche, il disastro ecologico di cui a malapena ci accorgiamo perché se arriva un'acquazione a Milano o a Roma, sì, è vero, si creano dei problemi, ma tutto sommato la si gestisce perché le case non sono fatte di argilla o di lamiera, come invece accade in altre aree del mondo che sono più sensibili, sono più soggette perché più deboli, ma essendo l'ape un animale debole, ci indica e ci segnala un qualcosa, quindi il vostro lavoro ci conserva e preserva la biodiversità proiettandoci perché ci salva, dando questo indicatore verso il futuro. Un tuo messaggio nella dolcezza del miele e dalla dolcezza del miele un messaggio positivo per far sì che un'ape possa andare a dire ai signori che ci regolano, che poi sono quelli che noi eleggiamo, che sono fortemente compatti per voler fare qualcosa ma che forse incentivare ancora può essere utile. Quale può essere un messaggio di dolcezza da un'apicoltrice per questa domenica lunedì? All'interno, lo ribadiamo ancora, di questa giornata mondiale dell'ambiente, 5 giugno, ieri giornata mondiale dell'oceani e ora G7 dell'ambiente. Che messaggio? Lasciare un messaggio dolce in un momento così drammatico è difficile, però posso dire questo, che degustando un buon miele si può pensare al fatto che quell'ape, oltre a regalarci un dolce miele, ci regala il 70% di tutte le piante che noi mangiamo. Per l'impollinazione? Per l'impollinazione, per cui anche chi non ama il miele deve avere ben presente questo problema perché dall'impollinazione delle api dipende il 70% della produzione agricola del nostro pianeta. Quindi se posso guardare un fiore o donare o mangiare di un fiore, se posso mangiare, alimentarmi, è dovuto per il 70%, quindi per una cifra consistentissima alle api. Quindi oltre alla dolcezza del miele, questi animaletti, questi animali, ci indicano cosa sta accadendo e ci danno un alert, un allarme ben forte e ci dicono, signori, guardate che se noi ce ne andiamo, voi, che chi volesse l'amaro, comunque non avrebbe neanche l'amaro perché non ci sarebbe più da mangiare. Assolutamente vero e è ormai una cosa che è risaputa e condivisa dal mondo scientifico, non è un messaggio da chi in qualche modo è legata all'economia delle api. L'economia delle api non è il miele, è il resto. Anche è un'ape a questo punto, questo messaggio e ti ringraziamo di lavorare in questo modo per tutti perché preservando l'ape preservi l'agricoltura e la bellezza del pianeta. Grazie a voi. Grazie.